Se noi sappiamo che il Signore parla, vero? Alleluia, ci parla attraverso la Sua parola, ci parla attraverso le profezie. La scrittura dice una volta ho sentito queste parole, anzi due. Quindi il Signore non parla soltanto una volta, parla anche due volte. Amen. E io voglio fare quello che il Signore vuole, voglio ritornare sul passo di scrittura di domenica scorsa, in modo che non sentiamo questo passo di scrittura soltanto una volta, ma due volte. In modo che lo memorizziamo e questa parola possa realmente diventare spirito e vita nella nostra vita. Quindi vi invito ad aprire la Bibbia nel libro di Giosuè. Ricordate di cosa avevamo parlato domenica scorsa? Avevamo parlato di quando Dio chiamò Giosuè a sostituire Mosè affinché fosse il nuovo conduttiere, affinché potesse portare il popolo di Israele nella terra promessa, nella terra di Canaan. E ricordiamo anche che non lo lasciò da solo. Il Signore non ci lascia da soli. Quando ci dà un compito da fare, Lui è con noi. Infatti la parola di Dio dice e io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Pertanto una forma italiana dice non ti sbarruare, non ti scoraggiare perché il Signore è sempre con noi. E però per equipaggiare Giosuè, per non lasciarlo da solo, c'era bisogno che Dio gli desse la sua parola. E Dio stamattina ancora una volta ci vuole dare la sua parola affinché la nostra vita possa essere bene equipaggiata in un mondo difficile. Viviamo tempi difficili ma il Signore ancora una volta stamattina ci dice io non ti lascio e non ti abbandono. Ricordiamoci che il Signore ci ha dato la sua parola per equipaggiarci e lo Spirito Santo affinché sia la nostra guida. Abbiamo bisogno di altro. Abbiamo tutto ciò che la nostra vita necessita per poter navigare anche in un mare tempestoso. Anche quando il mare non è calmo, anche quando ci sono situazioni difficili nella nostra vita, sappiamo che noi ce la possiamo fare. Perché il Signore ci ha dato la sua parola che sia da incoraggiamento ma a volte anche da monito. Lui ci rialza, ci guida, ci corregge e noi dobbiamo accettare l'interezza della sua parola. Non soltanto gli incoraggiamenti, non soltanto le promesse che servono per la nostra vita, ma dobbiamo accettare anche quando lui ci corregge, le correzioni. Pertanto, se la sua parola ci corregge, sarebbe da stolti continuare negli stessi atteggiamenti che avevamo prima. Prima che la sua parola venisse per illuminare la nostra vita. Quando la sua parola viene, illumina la nostra vita e porta correzione. Dice la scrittura che al momento a cosa non tanto ne piace, però poi quando questa parola produce nella nostra vita, spirito, ecco che tutto cambia. Adesso siamo modellati, adesso siamo trasformati. Meraviglioso il canto che abbiamo cantato. Signore, riempimi come un vaso. Riempimi di cosa? Di che cosa vogliamo essere riempiti? Abbiamo cantato e sono sicuro che abbiamo cantato con tutto il cuore. Ma di cosa vogliamo essere riempiti? Io voglio essere riempito della sua parola, dei suoi consigli, dei suoi comandamenti, della sua guida, della sua direzione. In modo che quando è opportuno, sapete la parola di Dio è come avere qualcosa di conservato in un cassetto. Tu quando apri quel cassetto sai che c'è qualcosa che ti serve. Quando apri quel cassetto, quando hai bisogno di quella cosa che hai conservata, allo stesso modo agisce la parola di Dio nella nostra vita. Sappiamo anche dei passi di scrittura, li sappiamo anche a memoria, ma non li lasciare dentro un cassetto. Perché poi fa puzza di naftelina. Se non la usi la parola nella tua vita e se non permetti a questa parola di essere realmente la guida della tua vita, sarà lì, la conosci, è vero, ma rimarrà lì a marcire. E invece quando hai bisogno, valla a prendere, giovati della sua parola. E qui il Signore ha Giosuè affinché potesse essere bene equipaggiato per condurre il popolo di Israele e portarlo finalmente nella terra promessa, dopo aver vagato per 40 anni nel deserto, gli dà delle promesse, gli fa delle promesse. Io sarò con te tutti i giorni della tua vita, come sono stato con il mio servo Mosè, starò anche con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò, nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Meravigliose promesse, alleluia! Queste parole sono anche per noi, ma il passo di scrittura non finisce così. E poi il Signore ha bisogno non soltanto di promesse, ma ha bisogno anche di darci delle raccomandazioni. Ricordate ciò che disse a Giosuè, lo leggiamo insieme, dal verso 6 dice Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, avendo cura di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge, attenzione, non stiamo parlando di legge, lo so che siamo sotto alla grazia e non siamo più sotto alla legge. Ma quando la scrittura dice questo libro della legge, sta parlando della parola di Dio e sta dicendo questa parola, questa mia parola, non si diparta mai dalla tua bocca. Questi miei insegnamenti, questi miei consigli, questi miei precetti, fanne tesoro, usali, non li lasciare in un cassetto. Ma meditalo ogni giorno e ogni notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto. Perché, allora, queste sono raccomandazioni con condizioni. Non sempre. La tua vita non prospererà sempre e comunque. Non avrai successo sempre e comunque. Attenzione, non sta parlando semplicemente di successo materiale o di successo nel proprio esercito, nel guidare il popolo. Qui sta parlando di successo spirituale. Vuoi avere tu successo spirituale nella tua vita? Vuoi realmente tu essere condotto dalla parola di Dio? E allora questi versi sono per me. Medita questo libro della legge giorno e notte, avendo cura di fare tutto ciò che è prescritto in esso. Perché allora avrai successo. Allora la tua vita prospererà. Sii forte. Lo dice anche a noi la parola di Dio. Sii forte. Cosa significa? Abbiamo spiegato domenica scorsa. Sii forte. Sii forte nelle piccole cose, nel quotidiano, nelle decisioni che tu prendi ogni giorno. Sii forte. Mettiti in ginocchio, prega quando hai una situazione difficile da affrontare. Apri la parola di Dio e incomincia a cercare nella parola di Dio ciò che è bisognevole, nella tua occasione, in quel momento, ciò che la tua vita necessita. Fai tesoro questa parola. Sii forte. Sii forte, dice la scrittura, è coraggioso. Anzi dice molto coraggioso. Molto coraggioso. Abbiamo detto domenica scorsa che oggi, in questi tempi molto difficili, non è facile essere coraggiosi. Perché essere coraggiosi significa applicare nella tua vita i principi di Dio. E oggi il mondo vorrebbe assolutamente deviarti dai principi di Dio. Oggi la parola, anche nelle chiese, ahimè, devo dire, anche nelle chiese, viene anacquata e accettata parzialmente. Ci sono dei passi di scrittura che forse in alcune chiese sono state strappate, non servono più. Oggi siamo nel 2023. Cosa vuoi che un libro scritto migliaia di anni fa ancora possa servire nel 2023? Io sono l'Eterno e non muto, dice il Signore. I miei principi sono incrollabili. I miei principi sono validi in eterno. E' beato l'uomo, dice l'ultima raccomandazione nel libro di Apocalisse. Dice, e' beato l'uomo che non aggiunge e non toglie nulla a questa scrittura. Queste raccomandazioni non erano valide per Giosuè o per Mosè, ma sono valide ancora oggi per noi. Raccomandazioni legate all'ubidienza. E sono legate a doppio filo. Non cercare di slegarle. La raccomandazione di Dio è legata alla tua ubbidienza della sua parola. Raccomandazioni. Il Signore ancora oggi ci raccomanda di seguire la sua parola. Non è facile, soprattutto per voi giovani, lo so, sono stato giovane come voi. Non è facile, anzi vi racconto la mia testimonianza. Io fino a quando andavo alle scuole medie, fino alla terza media, facevo casa e chiesa, forse come alcuni di voi. Quindi non avevo difficoltà. Mi ricordo che mia mamma, andavo nelle scuole medie, mia mamma mi faceva un permesso, un'autorizzazione, ed io ero esonerato dall'ora di religione. Che c'era Uvarrino, c'era il prete, e mia mamma pensava di esonerarmi. Vi dico una cosa, non sono mai uscito dalla classe nell'ora di religione. L'ora di religione era diventata una chiacchierata fra me e il professore di religione. Ancora avevo il coraggio, ancora era pieno di coraggio, ma poi sono andato alle scuole superiori e incominciava ad essere un poco più difficile. Perché adesso quel coraggio doveva essere manifestato, anche ho incominciato a spiccare il volo. Non ero più nelle mura domestiche, non facevo più casa, chiese, scuola, scuola, casa, chiese, eccetera, eccetera. Ma adesso avevo bisogno di coraggio. Sì, molto coraggioso, la parola me lo diceva. E sapete quando qualche pastore predicava quel passo di scrittura dove Gesù disse, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Boom! Ta! Una cutrata. Perché io incominciavo ad avere difficoltà. Dovevo scendere a compromesso. Perché dire sono un cristiano evangelico a un certo punto mi costava fatica. C'era qualcosa che dovevo sacrificare. Però poi ho capito che riconoscere il Signore non significava soltanto dire sono un cristiano evangelico. No! Quello è soltanto un modo di dire. Ma noi, cristiani, siamo coloro che difendono l'Evangelo. Siamo coloro che sappiamo prendere posizione in determinate circostanze. E quando il nome di Gesù e quando i principi di Dio vengono annacquati della serie Così fan tutti, lo potremmo fare pure noi. Se anche qualche pastore vi dicesse che adesso la porta non è più stretta ma è diventata larga, non ci crediti. Perché la porta era stretta ed è rimasta stretta. L'Evangelo e la grazia ti costerà qualcosa. E la grazia è gratuita. E la salvezza è gratuita. E tu non sei salvato per le tue opere. Tutto vero. Confermo parola per parola. Ma soltanto la salvezza è gratuita. Tutto il resto ti costerà qualcosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. È difficile a volte. Siamo in situazioni, in ambienti dove la parola di Dio viene calpestata. Dove oggi è più facile seguire il pensiero comune. Seguire il pensiero di tutti perché tutti vanno nella stessa direzione. È molto più facile dire ma alla fine la cultura transgender che bella parola. Non l'avevo mai sentita tanti anni fa non esisteva. Ma oggi il mondo va in questa direzione. Io lo so che per voi giovani è più difficile è più difficile rimanere ancorati alla parola di Dio. Però come ho intitolato il messaggio domenica scorsa ce la potete fare. Ce la potete fare. Ce la possiamo fare fratelli. Se rimaniamo ancorati ai principi di Dio che sono eterni e non mutano ce la possiamo fare. Ricordiamoci che la parola di Dio dice non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli ma quelli che fanno la volontà del Padre mio che è nei cieli ma Signore alcuni diranno ma noi nel tuo nome questi sono i credenti falsi ma sono credenti ma Signore noi nel tuo nome abbiamo profetizzato nel tuo nome abbiamo scacciato demoni nel tuo nome nel tuo nome si riempiranno la bocca a dire nel tuo nome erano quelli che seguivano la Chiesa erano quelli che frequentavano la Chiesa forse qualcuno era messo anche lì a fare accoglienza e assistenza forse qualcuno era messo al mixer o stava registrando qualcuno forse era messo qui a cantare a suonare e qualcuno era messo qui anche a predicare ma noi nel tuo nome ma il Signore dirà andate via operatori di iniquità perché io non vi ho mai conosciuti non facevate parte del mio popolo non eravate quelle pecore del mio vile si eravate in un campo di grano ma non eravate grano eravate zizzania non è questo non sono queste le parole che ognuno di noi vorrà sentirsi dire un giorno ma le parole che io voglio sentirmi dire vieni benedetto dal Padre mio perché a te a te a te e a chiunque di noi io ho messo il mio regno a tua disposizione vieni Gesù in questo discorso sulla montagna continua con delle parole meravigliose e dice chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica io lo paragonerò sarà paragonata a un uomo avveduto a un uomo saggio che ha edificato la sua casa sopra la roccia vennero i venti soffiarono i venti vennero le inondazioni caddero le piogge ma la sua casa non cadde perché la sua casa era ancorata sulla roccia chi è la roccia alleluia Cristo Gesù è la roccia la parola di Dio è Cristo Gesù viceversa c'è un altro uomo attenzione erano entrambi i credenti entrambi avevano ascoltato la parola di Dio perché anche per l'altro uomo la scrittura dice e chiunque ode queste parole la parola era stata predicata ad entrambi i costruttori e chiunque ode queste parole e non le mette in pratica io la paragonerò a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sopra la sabbia vennero i venti vennero le piogge e la sua casa crollò non c'era fondamento entrambi costruirono due case per entrambi vennero i momenti difficili ma la fine della casa fu differente la mia domanda è su cosa anzi su chi stai tu edificando la tua casa io la sto edificando sulla parola di Dio e non me ne sono mai pentito da quando seguo la parola di Dio non me ne pento non mi interessa essere anticonformista non mi interessa quello che dicono gli altri di me non ho più qualcosa da difendere perché la mia dignità è diventata Cristo Gesù o la mia ex dignità l'ho calpestata sotto i piedi come l'apostolo Paolo dice io ho perso qualsiasi cosa pur di acquistare Gesù Cristo e lui crocifisso potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede io lo so che non è difficile che non è facile scusate io lo so che a volte diventa molto difficile non deviare né a destra né a sinistra e come si fa anzi l'apostolo Paolo lo scrive ai Romani e se il messaggio avesse parlato soltanto della prima parte sarebbe stato in qualche modo un messaggio monco ma io non voglio fare un messaggio monco e vi dico anche che è difficile fare la volontà di Dio è difficile non deviare né a destra né a sinistra è difficile perché a volte bisogna fare delle scelte impopolari ecco perché l'apostolo Paolo scrivendo ai Romani dice chi mi libererà da questo corpo mortale le cose che io voglio fare e non le faccio e invece faccio le cose che non vorrei fare ma com'è possibile la legge dice l'apostolo Paolo è spirituale però noi siamo carnali perché a volte davanti ai nostri occhi c'è un bel frutto lucido e qualcuno ci suggerisce mangialo davanti a noi ci sono i principi di Dio meravigliosi lo sappiamo e poi c'è qualcosa o qualcuno che interviene nella nostra vita e dice devia bovna voda c'è bisogno di seguire sempre questa questa via io conosco soltanto una via che porta al cielo quella via si chiama Gesù Cristo non ci sono alternative alla parola di Dio non cercare alternative alla parola di Dio perché stai perdendo tempo anzi Giacomo dice piuttosto che essere soltanto uditori siate pure soltanto facitori della parola di Dio perché caso contrario state ingannando voi stessi tu ti vuoi ingannare io no io voglio essere sincero davanti a Dio e voglio dire signore aiutami a fare la tua volontà abbiamo bisogno di pregare affinché il Signore ci possa aiutare a fare la sua volontà perché il frutto è vero è bello da vedere e poi se è bello da vedere sicuramente tu immagini che sia anche buono da mangiare questo è un problema perché a un certo punto se lo vedi soltanto con i tuoi occhi e la tentazione finisce lì e vabbè l'ho visto i miei occhi hanno visto ciò che non dovevano vedere però poi a un certo punto mi sono fermato e la mia preghiera è fermati quando vedi che il frutto è buono da vedere fermati e non andare oltre ma poi invece la tentazione ci porta a dire se sarà buono da vedere sicuramente sarà anche buono da mangiare bello la vista e dolce al palato così è il peccato bello ai nostri occhi e anche buono commestibile e poi quando abbiamo un conto da pagare perché ricordiamoci che il salario del peccato è la morte quando c'è un conto da pagare incominciamo a de-responsabilizzarci e incominciamo a dire ma signore non è cupamei è stato il serpente che mi ha tentato se non ci fosse stato quel serpente io non sarei caduta e poi l'uomo ma signore ma se non ci fosse stato questa donna io non sarei caduto io ti dico che non è né colpa del serpente né colpa della donna il problema è che facciamo un cattivo uso della parola di Dio il problema è che non sempre riusciamo a tirare fuori dal cassetto quel passo di scrittura che ci equipaggia nei momenti difficili perché le prove le tentazioni verranno per tutti vengono per tutti la pioggia cade e cade per tutti i venti soffiono e soffiono per tutti le intemperie ci sono più meglio che si sente vengono verranno ma se tu hai costruito la tua casa sopra la roccia a voi gli amigliovi può anche diluviare non fa nulla la tua casa resisterà perché la tua vita è fondata sopra la roccia vi invito a prendere il salmo 119 che ci dà dei consigli dei consigli meravigliosi ci equipaggia la parola di Dio ci equipaggia nei momenti difficili ci equipaggia perché la parola di Dio viene per i momenti difficili salmo 119 dice beati quelli la cui via è senza macchia e che camminano nella legge dell'eterno beati felici pieni di gioia c'è grande gioia nel fare la volontà di Dio ti sentirei così realizzato quando ci sarà una tentazione nella tua vita e tu la superi attraverso la sua parola poi ti senti una bum perché dici sì la tentazione è venuta sì la pioggia è caduta ma io ce l'ho fatta nel nome di Gesù sii forte e molto coraggioso sii forte non nella tua forza del resto fratelli rinforzatevi nella nel signore nella forza della sua potenza disse Paolo non per la tua forza non per forza né per potenza ma per il mio santo spirito dice la sua parola beati quelli che osservano i suoi precetti e che lo cercano con tutto il cuore noi lo cerchiamo con tutto il cuore vogliamo cercare il signore con tutto il cuore non è una costrizione non è un dovere nessuno vi potrà mai dire e fai questo fai quello perché se questa parola non è diventata spirito nella vostra vita a ogliame anche da questo pulpito vengono gli incoraggiamenti le raccomandazioni non servirà a nulla se questa parola non diventa veramente spirito sai è come il cibo se tu il cibo lo mettessi soltanto nella bocca e dopo averlo masticato lo dovessi espellere dalla tua bocca cioè non lo fai diventare non lo fai entrare nel tuo corpo affinché quel cibo possa diventare vero nutrimento per la tua vita tu resti sempre scheletrito dici ma io ho mangiato no non hai mangiato perché poi lo hai buttato non ne hai fatto tesoro se questa parola non penetra dentro le nostre viscere e non diventa un tutt'uno con la nostra anima resterà sempre fino a se stessa non sarà di nessuno giovamento ma la parola è chiara beati quelli che osservano i suoi precetti e che lo cercano con tutto il cuore beati quelli che fanno la mia volontà e lo fanno con tutto il cuore sapendo che le benedizioni vengono dall'ubbidienza ricordiamoci le benedizioni ripetiamo le benedizioni vengono dall'ubbidienza avendo cura di fare tutto ciò che questo libro prescrive perché allora riuscirai nelle tue imprese allora prospererai saltiamo adesso al verso 8 dice osserverò i tuoi statuti non abbandonarmi completamente il salmista lo sapeva sì io osserverò i tuoi statuti ma tu signore non abbandonarmi completamente forse c'era stato un momento in cui aveva realizzato che ci aveva scelgato pevi sì signore io faccio di tutto sapete a volta e molto spesso l'intenzione è quella che conta il signore lo sa che nel nostro percorso cristiano noi avremo delle cadute è inevitabile se vi dicessi il contrario sarei bugiardo avremo delle cadute però il salmista dice ma tu signore non abbandonarmi completamente forse sapeva anche che in determinate occasioni Dio aveva messo aveva lasciato il popolo di Israele e lo aveva anche dato nelle mani di popoli nemici aveva anche permesso che il popolo di Israele riportasse delle sconfitte ma perché signore ma questo non è il tuo popolo ma come tu lo hai tirato fuori dall'Egitto poi per farlo distruggere da chi ai tempi di Sansone c'erano i filistei che dominavano signore ma perché tu non susciti un uomo forte che ci possa liberare da questo popolo perché ci hai dato nelle mani di questo popolo perché a volte il signore ha bisogno anche di insegnarci qualcosa di darci delle lezioni però ricordiamoci noi siamo sempre il popolo di Dio il popolo di Israele non fu mai completamente come dice il salmista non abbandonarmi completamente e il signore suscitò un uomo forte Sansone miracolosamente nacque da una donna sterile e sappiamo la vita e la storia di Sansone però sappiamo che Sansone aveva un problema con l'ubidienza perché incominciò a cercare donne nel campo nemico infatti i suoi generi dissero ma non ci sono abbastanza donne nel tuo campo perché ti vai ad accoppiare con gli infedeli che bisogno hai se qui ci sono tante uomini tante donne dove tu puoi trovare una moglie perché stai disubbidendo stai disonorando la parola di Dio c'è sempre una conseguenza al peccato sappiamo che il signore fu con lui con una mascella d'asimo ha ucciso mille uomini immagini quanto sono mille uno due tre ottocento sette mille mille uomini caddero per la forza di Sanzone però ti ricordi domenica scorsa però era forzantacido perché poi questa forza si scontrò con la sua disubbidienza e a causa del problema che gli piacevano le donne aveva un problema con le donne la sua disubbidienza lo fece cadere nelle mani nemiche quando ricordate svelò il segreto della sua forza quella donna poi i suoi avversari i filistei incominciarono a deriderlo ma anche Sanzone come il salmista a un certo punto disse signore non abbandonarmi completamente dammi ancora una volta la tua forza e ci ricordiamo come finì attraverso la sua morte dice la scrittura uccise più filistei che mentre era in vita Dio non ci lascia e non ci abbandona signore non abbandonarmi completamente come può un giovane rendere la sua via pura che bella domanda il salmista si fa e ci fa questa domanda come può un giovane rendere la sua via pura oggi abbiamo tanti problemi e un'altra domanda potrebbe essere come può un marito essere fedele a una moglie come può una moglie essere fedele a un marito quali sono qual è la ricetta guarda qual è la ricetta custodendola con la tua parola e il signore dice io lo so è a causa della vostra debolezza però se nel momento della tentazione tu fai uso della sua parola tu vedrai che la tua vita viene rinforzata hai visto quel frutto quel frutto è molto bello da vedere ma tu dici signore siccome ho capito che c'è una grande benedizione nella tua ubbidienza io non proverò il suo gusto mi faccio un passo indietro prima di cadere completamente ecco perché il salmista diceva signore non abbandonarmi completamente signore metti davanti a me sempre la tua parola affinché nei momenti difficili io possa rispecchiarmi alla tua parola e possa capire quali sono i tuoi precetti i tuoi consigli qual è la via da seguire la via che porta verso la benedizione non cercare alternative alla parola di Dio perché non ci sono alternative dice il verso seguente ti ho cercato con tutto il mio cuore non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti signore la mia preghiera è sii sempre accanto a me affinché io possa capire cosa tu vuoi per la mia vita non voglio perdermi non voglio fare come i galati che all'inizio disse Paolo galati insensati avevate cominciato bene perché io ora ho ammasso un tuo sviluppo perché avevate cominciato nello spirito e ora invece siete caduti nella carne perché quando ti sei convertito questa parola era sempre giorno e notte davanti a te e la parola aveva cambiato la tua vita e ora invece forse tu stai cercando di cambiare la parola no la parola è sempre la stessa lascia che sia sempre la parola cambiare la tua vita e mai viceversa perché faresti un cattivo compito meraviglioso il verso 11 è bellissimo ho conservato se dimenticherete tutto di quello che ho detto non dimenticate questo verso ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te il salmista aveva questo desiderio aveva questo proponimento davanti a lui signore io ho conservato con cura attenzione non mi sono soltanto limitato a leggere ma ho meditato e dopo averla meditata l'ho conservata nel mio cuore ricordate Geremia 31 33 mi pare che dice 31 33 dice io metterò le mie leggi nella loro mente li scriverò nel loro cuore affinché loro siano il mio popolo e io sia il loro dio dove sono scritte le leggi del signore non più appese in un muro dove ogni tanto te vaddi e dice aspetta il 2 lo metto in pratica il 4 no il 5 sì il 7 no non funziona così perché Dio ha parlato ai nostri cuori la sua legge i suoi comandamenti i suoi precetti i suoi insegnamenti i suoi consigli le sue raccomandazioni adesso sono scritte nel tuo cuore basta che tu apri il tuo cuore e li tiri fuori perché il signore è lì che li ha messi sii coraggioso un uomo e con questo vado a concludere un uomo di nome Saul vi invito ad aprire primo Samuele capitolo 15 un uomo di nome Saul che era stato scelto fu il primo re di Israele ricordate quando il popolo di Israele disubitì e anche anche loro vollero un re come tutti gli altri popoli non avevano capito che il loro re era direttamente Dio era il re del re il signore del signore ma non si accontentarono spesso facciamo anche noi la stessa cosa e chiesero a Samuele noi vogliamo un re come tutti gli altri popoli e Samuele incominciò ad elencare quali sarebbero stati i diritti del re contro il popolo non interessa lo vogliamo lo stesso non soltanto questo frutto lo vogliamo vedere perché è bello alla vista lo vogliamo anche mangiare è buono manci dirlo il signore gli dice lo vuoi mangiare mangialo però poi ne pagherai le conseguenze e Saulo che era un re il re scelto da Dio per soddisfare le esigenze del popolo dice al capitolo 15 così dice l'eterno degli eserciti io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando gli si oppose per via mentre usciva dall'Egitto ora va dice Dio a Saulo colpisci Amalek e vota allo stermino tutto ciò che gli appartiene senza avere alcuna pietà di lui ma uccidi uomini e donne fanciulli e lattanti buoi e pecore cammelli e asini è chiara la parola di Dio la domanda è è chiara la parola di Dio non ti chiedere se è giusto o non è giusto perché forse Saulo disubbidì forse pensava ma non è giusto a volte noi facciamo così ubbidiamo parzialmente alla parola di Dio perché poi l'altra parte la cambiamo al nostro uso e consumo questa è giusta no questa no il Signore capirà è chiara la parola di Dio Dio gli aveva detto vota allo sterminio tutto e però poi come cominciamo noi cominciamo noi con l'etica con la morale magari anche oggi potremmo pensare ma Signore cosa va in mezzo al popolo c'erano anche persone presi dall'anima dai nostri pensieri incominciamo a mettere in dubbio la parola di Dio perché succede anche oggi ovviamente questo è un esempio forse Saulo pensò ma ma veramente è giusto ammazzare tutti quei bei animali guarda che belle pecore guarda che bei buoi ammazziamo chi di sciancate offriamo al Signore una parte lo leggiamo insieme perché la parola di Dio rende meglio di ogni altra cosa ogni ragionamento ogni pensiero dici colpisci e distruggi tutto e saltiamo al verso al verso 4 continuiamo col verso 4 Saulo dunque convocò il popolo e lo passò in rassegna a Telaim 200.000 fanti 10.000 uomini di Giude eccetera eccetera verso 7 Saulo sconfisse gli amalichiti fino a Shur che è di fronte all'Egitto egli prese vivo Agag re degli amalichiti e volò allo sterminio tutto il popolo passandolo a fil di spada bravo l'aveva detto il Signore passa tutti a fil di spada ma passò tutto il popolo verso 9 ma Saulo e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore e dei buoi gli animali grassi gli agnelli e tutto il meglio rifiutandosi di votarli allo sterminio ma votarono allo sterminio tutto ciò che era scadente e di nessun valore una piccola variazione sul tema vero? alla fine aveva ubbidito il Signore era stato con lui aveva riportato una bella vittoria però la parola di Dio era chiara non risparmiare nessuno non ti fare prendere dalle emotività non lasciare in vita neanche i lattanti e se vedi degli animali bellissimi il mio comandamento e tu devi ubbidire quello che io ho detto è passale a fil di spada non lasciare nulla non offrirmi l'adorazione di Caino perché Dio non vuole l'adorazione di Caino Dio vuole l'ubbidienza e non vuole il sacrificio della nostra vita avevo voglia che facciamo un bellissimo servizio abbiamo voglia che cantiamo e che suoniamo abbiamo voglia che predichiamo ma se siamo disubbidienti alla sua parola se ci lasciamo trascinare dal nostro carattere perché il nostro carattere a volte si lascia prendere dalle emotività e boh dai signore tu capirai sai cosa disse Saulo poi per giustificare la sua parziale ubbidienza dice ma signore questi erano stati lasciati e messi da parte perché noi volevamo offrirti un sacrificio quale migliore occasione avevamo tutti questi animali bellissimi ingrassati quale migliore occasione per offrirti dei sacrifici e poi non sapendo più come giustificarsi cominciò a dire sai erai e fu il popolo è stato il popolo che mi ha condizionato sono stati loro attenzione anche ai conduttori sto praticando a me stesso attenzione a noi conduttori per come utilizziamo la sua parola se ci facciamo prendere dal popolo ma sai era Saulo poi che doveva dare al signore una relazione un resoconto di quello che aveva fatto non era il popolo perché Dio non aveva chiesto al popolo di passare a fil di spada uomini animali e bestie e tutto era stato a Saulo a cui avrebbe chiesto il conto e il resoconto di quello che Saulo aveva fatto e Saulo qui fece esattamente come Adamo ed Eva e fu il serpente e fu quella donna che tu mi hai messo no Saulo no fratello no sorella se sbagli se cadi nel peccato se scadi nel peccato è perché non hai fatto della parola di Dio il tuo baluardo è perché la tua casa non è stata costruita sopra la roccia e quando verranno le piogge quando si abbatteranno le inondazioni sulla tua casa la tua casa non resisterà perché è la parola di Dio che fa della tua vita un baluardo Signore aiutaci a fare la tua volontà alziamoci in piedi Signore come il salmista vogliamo dire Signore io ho conservato la tua parola dentro il mio cuore giovani conservate la parola di Dio dentro il vostro cuore affinché a un momento opportuno questa parola conservata dentro di voi non vi permetta di disubbitire la parola di Dio io ho conservato la tua parola dentro il mio cuore per non peccare contro di te Signore aiutaci Signore aiutaci a custodire la tua parola dentro di noi Signore aiutaci del continuo a renderci conto che lontano da te lontano dall'ubbidienza alla tua parola non ci sono benedizioni Signore ma tu vuoi benedire la nostra vita con ogni benedizione nei luoghi terrestri e nei luoghi celesti Signore insegnaci la via oh Signore tu hai dato te stesso e tu sei la nostra via la nostra verità e la nostra vita non vogliamo deviare non vogliamo deviare Signore né a destra né a sinistra ma sappiamo Signore che con le nostre forze non ce la possiamo fare sii tu Signore del continuo e il nostro baluardo per come hai promesso nella tua parola di non lasciarci e non abbandonarci Signore non ci lasciare e non ci abbandonare soprattutto nei momenti difficili quando Signore le traversie di questa vita forse ci portano a deviare forse ci portano Signore a fare l'occhiolino alla disubbidienza e al peccato Signore aiutaci siamo il greggio del tuo pascolo e vogliamo cibarci soltanto alla tua tavola alla tua mensa dove ci sono cibi puri e acqua in abbondanza Signore benedici il tuo popolo Signore benedici ogni vita e ogni famiglia qui rappresentata e fa Signore che tutti di pari sentimento possiamo servire e seguire te e te soltanto ogni cosa che te la chiediamo Signore te la chiediamo nel nome di Gesù ora è sempre benedetto in eterno Amen Amen Dio vi strabenedica